Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Amici di Radio Bruno in esclusiva solo per noi e sono contentissima di averlo qui Edoardo Leo Ciao Ale, buongiorno, buongiorno a tutti Buongiorno, come sa, attore, regista e anche adesso conduttore Eh beh, no, no, ti ho rubato il mestiere ma giuro solo per una settimana Poi io da domenica torno a fare il mio mestiere tranquillo, non rompo le scatole a nessuno Ma sei bravissimo Ma no, ma Ma davvero? Ti ho visto anche dal vivo, sono venuta lì al dopo festival No, ma sai, proprio perché non sono un conduttore, alla fine quando mi è stato chiesto di farlo Quando Claudio Baglioni mi ha chiesto perché non ti occupi di questa cosa Io sinceramente ho pensato, lui mi ha detto pensaci, io ho detto ok ci penso Ma dentro di me io sapevo che era un no, non l'avrei mai fatto Perché poi ho rivisto le vecchie edizioni, mi sono andato a documentare E ho detto ah lì c'è proprio un conduttore che va lì col microfono Che conosce quei tempi E poi ho, non ho posto una condizione Però ho detto a Claudio che l'avrei fatto semplicemente se Se ci fosse stata la possibilità di ripensare un po' il programma Cioè di farlo Un format nuovo Esatto E quindi ho proposto di fare questa cosa che si chiama Tanto Siamo Fra Amici In cui mi sono portato veramente i miei amici Che poi sì sono sempre Sabrina Impacciatore, Rolando Rapello, Paolo Genovese Carolina Di Domenico Però realmente abbiamo fatto sul palco del teatro del Casinò Quello che avremmo fatto a casa Cioè ci vediamo, no come fai? Oh andiamo tale, io porto la pizza Guardiamo tutti insieme il festival Ci prendiamo una birra, che porti il sushi Guardiamo e lo commentiamo E ho cercato di riportare semplicemente sul teatro del Casinò Che è il posto dove il festival è stato fatto fino al 1968 Questa atmosfera qui Abbassando i toni Parlando di musica Cercando di fare una trasmissione ironica, divertente Però non volevo cadere in quella cosa di fare le polemiche troppo forti Anche perché Claudio che ama i cantanti, i cantatori Perché è un loro collega, mi ha chiesto di mantenere questi toni qui Non voleva che fossero processati E quindi siccome sono un amante della musica Abbiamo portato a casa per ora per queste prime tre serate Che stanno avendo un successo di share, di ascolti Incredibile una mia idea di dopo festival Complimenti davvero Però io voglio chiederti una cosa Ma il direttore artistico Claudio Baglioni Anche a te ha mandato il messaggino con la poesia Per convincerti a fare il dopo festival No, nessuna poesia Ci siamo visti a casa sua Proprio lo dico senza Ci siamo visti a casa sua Abbiamo parlato E io sinceramente pensavo Dico madonna Claudio Baglioni a casa sua Intanto già mi faceva un po' strano Perché poi adesso sembra tutto normale Però se a me a 18 anni, a 20 anni Che è il periodo in cui canti le canzoni di Baglioni E piangi da solo al bagno come un disperato A me succede ancora adesso comunque Esatto, io ho fatto finta che fosse a 20 anni Ma mi succede ancora adesso Cioè dicevi a casa di Baglioni Era già una cosa molto strana Cioè poi era proprio strano In più pensavo di trovare un'altra persona Molto più serio Molto più cantautore No sai Molto più tormentato È un uomo di un'ironia È un bambino Che quasi ti sorprende Possa aver scritto Quelle canzoni lì Che ci fanno tagliare le vene ai semafori No? E quindi mi sono sorpreso E quello che ho visto sul palco dell'Ariston Che hai visto pure tu Che abbiamo visto tutti È un uomo straordinario Autoironico Si sta prendendo in giro E quindi non credo che il successo di questo festival Sia casuale sinceramente Diciamo che puntata dopo puntata Si è anche sciolto parecchio Quindi Sì sì Io guarda Sono veramente sorpreso Perché Sai quando c'hai quella allure lì Del cantautore Cerchi di mantenerla Che è un po' il problema Che mi sono fatto anch'io Faccio il regista Faccio l'attore Stare lì e cercare di fare un mestiere che non è il tuo Mettersi in gioco Hai sempre paura di sconfinare Poi alla fine ho detto Sai che c'è una settimana Ma sì Ma giochiamo un po' Nel senso Divertiamoci in maniera sobria In maniera non trash E devo dire che alla fine Sono contento di aver accettato alla fine Ti stai divertendo un sacco con i tuoi amici Lì sul palco del dopo festival E' stato sul palco anche il picchio Ma perché lo chiamate il picchio? Perché questi sono i soprannomi Che noi ci siamo dati Allora Devi sapere che Tutti noi frequentavamo un posto a Roma Che si chiama il locale E' un buco di posto piccolino Messo su da alcuni nostri amici E io lì su quel palco Ho conosciuto Daniele Silvestri Che per la prima volta andava lì con la chitarra E suonava delle robe Niccolò Fabi Max Gazze Ho visto cantare Carmen Consoli Era un localino Di cui esibivano degli artisti Poi c'era Rocco Papaleo E tutti noi avevamo un po' C'era Pierfrancesco Ma Pierfrancesco era troppo lungo E' diventato Picchio Come io Edoardo Per Picchio sono Dado Dado? Sì Noi sul palco ieri ci siamo chiamati Picchio Dado Ci sembrava un po' strana Sta cosa stavamo Che facciamo qua? Perché? Quindi un po' Sabri Rollo Rolando Cioè è stata una roba Che può sembrare Anche no Autoreferenziale Se ci pensi Beh tu uno da casa dice Ma chissà Importa Invece un po' Secondo me Quell'atmosfera del gruppo E' passata E poi ti dico pure Che onestamente Adesso dopo Io faccio questo lavoro Da 25 anni Vederci tutti lì Dopo Percorsi diversi Anche di grande fatica Perché adesso è tutto bello Le interviste Le cose Però io lo so La fatica che ha fatto Picchio Per arrivare là So quella che ho fatto io Non è che abbiamo fatto La strada breve Abbiamo fatto La strada lunga Ci sono stati momenti Pure molto faticosi Anche per Sabrina Anche per Rolando E quindi un po' È una roba figa Dice Beh siamo lì tutti gli amici E facciamo una cosa Che ci rappresenta Questa è la cosa Che mi è piaciuta di più Non siamo venuti a snaturarci A fare cose Che non avremmo mai fatto Tutto sommato Stiamo portando L'atmosfera Di quei vent'anni lì Sul palco dell'Ariston E sul palco del teatro Del casino Parlando ancora del festival Sì Hai un tuo preferito Magari non lo puoi dire però No no Ma lo puoi Guarda Sì in realtà lo posso dire Te ne dico qualcuno Perché ovviamente Ho sentito le canzoni Molto Con grande anticipo Per prepararmi un pochino Sapere i testi Sapere Intanto si fa tifo per gli amici Per cui per esempio Io Max Macazè Che lo conosco veramente Pure lui da 25 anni Quando lo vedo cantare lì Fare un pezzo così difficile Così non si arremese Così complicato Faccio il tifo Mi piace Mi piace tantissimo La canzone della Manoni Scritta da Bruno Bellissima Emozionante Per il pezzo Meraviglioso Veramente meraviglioso Anche nel testo Poi è bello Vedere una C'è 83 anni La Manoni ragazzi Energia Ma che controllo della voce Tecnicamente C'è una roba Veramente Interessante Diciamo che questi due E poi Come credo anche per te L'emozione del pezzo di Ron Riportare Una canzone Che è proprio Quella di Lucio Dalla Io l'ho fatto Gli ho fatto fare Abbiamo chiuso gli occhi Al dopo festival Gli ho fatto cantare Il ritornello Veramente sembrava Di avere Dalla vicino E quindi Ecco diciamo Questi tre Sono i tre momenti Che anche da un punto di vista Televisivo Sono quelli E poi lo stato sociale Che mi diverto un sacco Hanno fatto una performance Super figa Ieri sono stati da noi Con questa signora Li abbiamo visti Ma lei è un mito Ma lei è veramente incredibile Insomma Io pensavo a lei Che ci credo abbia La stessa età Della Vanoni O i tacchi Gli stivali ai tacchi Stai ballato con i tacchi Ci ha chiesto In inglese Ci ha chiesto Se devo ballare Ditemelo Devo cambiare le scarpe Cioè Capito che io A quell'ora Non avrei fatto Nemmeno un passo Di Macarena Non ce l'avrei fatto Meravigliosa Senti invece È finito Questo festival Di Sanremo Che cosa farai Intanto finiamolo Ci sono progetti Progetti nuovi E vabbè certo Però ci penserai anche al dopo No Sì no Intanto finiamo nel senso Che come ti ho spiegato È una trasmissione molto complessa Perché noi sostanzialmente Abbiamo un abbozzo di scaletta Ma la trasmissione È praticamente improvvisata Cioè tutto è improvvisato Vai a braccio così Io non so quando arrivano gli ospiti Non ho gli orari Noi prepariamo delle cose Ma non so quando arrivano Quando entrano Quindi io Mentre faccio la trasmissione Sono Devo guardare Dietro le telecamere Mi fanno segni Con dei cartelli Tipo È arrivato È arrivata la Hunziker E non è che dicono È arrivato da bere Quindi devi Immediatamente pensare All'ingresso da fare Farlo in maniera divertente Fare una gag Quindi Lì per lì Sembra tutto molto Tranquillo È in realtà Molto stressante È un'ora Che da casa Sembra che dura poco Per me Sembra che dura Mezza giornata E poi vai a dormire Tipo alle 6 del mattino Perché l'adrenalina È ancora in circolo Quindi Sì Ma poi facciamo Dopo ci diciamo Le cose non sono andate bene Più che altro Noi siamo legati A quello che succede Sul palco dell'Ariston Sanremo finisce A mezzanotte e mezzo Quindi noi andiamo in diretta E ci dobbiamo legare A una cosa che è appena successa Quindi è inutile Provare tantissimo Abbiamo dei momenti E li proviamo E poi da domenica Finalmente Torno a fare Quello che faccio Perché Sto Sto scrivendo il film nuovo Che farò quest'estate Una nuova regia E Nel frattempo faccio Faccio delle serate di teatro Dove sto da solo Faccio uno spettacolo Si chiama Ti racconto una storia Dove vado in scena da solo Con un musicista Ed è anche lì Uno spettacolo molto improvvisato Poi il 16 febbraio E il 17 febbraio A Roma e Biterbo Faccio questo spettacolo Rileggo le avventure di Pinocchio In scena Alla sala Sinopoli Dove io faccio tutti i personaggi Ognuno Delle avventure di Pinocchio Ognuno con un dialetto diverso E dietro c'ho L'orchestra sinfonica Giovanile di Roma Che fa L'orchestrazione sonora E quindi è uno spettacolo Per grandi E per bambini Molto 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 coinvolgente Perché Riscopriamo una favola Che pensiamo di conoscere Invece La conosciamo molto meno Di quanto pensiamo E poi il 29 marzo Esce questo film Che ho scritto Di cui sono protagonista E si chiama Io c'è La regia di Alessandro Step by step Step by step Step by step Ok Grazie Don Grazie Ale Grazie a te Grazie mille Ciao a tutti Ciao Buon Sanremo Grazie Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renaud Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli E B per Banca